Ciao e ben ritrovati! Eh sì, questo messaggio sarà in italiano perché mi rivolgo a tutti gli amanti dei Pink Floyd che risiedono nel nostro bel paese. E come è facile immaginare, questo è proprio perché finalmente è arrivato il momento di annunciare il nostro ritorno in Italia per il tour europeo di questo 2024. Sette concerti già tutti in vendita su TicketOne e Ticketmaster e in descrizione troverete tutti i link per ogni concerto. E le date nello specifico sono venerdì 18 ottobre Gran Teatro Morato a Brescia, sabato 19 ottobre Gran Teatro Geox a Padova, mercoledì 30 ottobre Auditorium Parco della Musica a Roma, giovedì 31 ottobre ad Halloween Teatro Team a Bari, sabato 2 novembre Europa Auditorium a Bologna, domenica 3 novembre Teatro Cartiere Carrara l'ex hobby hall per intenderci a Firenze e lunedì 4 novembre Teatro degli Arcimboldi a Milano. Ragazzi, io veramente non vedo l'ora di tornare a suonare in Italia. Ogni volta che torniamo voi ci accogliete sempre in un modo indimenticabile, ci regalate un affetto straordinario che davvero è secondo a nessun altro pubblico al mondo. Ci fate sempre sentire speciali e ci rendete tanto orgogliosi di condividere con voi la nostra passione per questa musica bellissima e senza tempo. Lo spettacolo di quest'anno, io ve lo dico, è assolutamente incredibile, fuori di testa. Personalmente è la mia scaletta preferita da quando sono entrato in Brit Floyd. E il riscontro che stiamo avendo dall'inizio dell'anno dimostra che questo show è stato anche il preferito di sempre per la maggior parte di quelli che ci sono venuti a vedere fino ad ora. E quest'anno in America questo spettacolo l'hanno visto in più di un quarto di milione di spettatori. Quindi ormai iniziamo ad avere dei dati abbastanza definitivi. Ma sinceramente noi ci divertiamo più che mai durante questa scaletta, quindi davvero ragazzi questo spettacolo lo dovete vedere. E poi dovete passare a salutarmi dopo lo show e lasciarmi un feedback che per me è sempre molto importante per migliorare. Tutto qui, biglietti in descrizione. Per la VIP experience e il meet and greet trovate tutto su Ticketmasters, ma se vi servono più informazioni sia noi che Zedlive siamo a vostra completa disposizione. I biglietti, come vi dicevo, sono già in vendita da un paio di settimane e stanno andando via. Quindi veloci perché sembra proprio che finiranno tutti, come stanno finendo tutti in tutto il resto di Europa. Poi non dite che non vi avevo avvertito. Basta, io vi saluto, vi abbraccio e spero davvero di vedervi numerosi ai nostri show italiani. Ciao!